Mancano pochissimi giorni i festeggiamenti in onore della Madonna del Castello, l'appuntamento religioso più atteso della popolazione castrovillarese. I fedeli però quest'anno non potranno far visita al santuario perché l'unica strada d'accesso è chiusa per lavori di ripristino e messi in sicurezza. Però abbiamo già fatto un passo avanti, diciamocelo chiaramente. Prima i lavori non partivano, adesso sono arrivati i finanziamenti, ci siamo tutti impegnati, come si suol dire popolarmente ci abbiamo messo alla faccia. Il Vesco è stato il primo gesto che ha fatto, è dato anche a Roma, ha discusso con le istituzioni. Ora tutto è pronto, tutto è partito. Io sono convinto che viviamo un momento di grande speranza. È la notte del 5 marzo 2012 quando gli abitanti del rione Civita vengono svegliati da un assordante boato. La fiancata della collina su cui sorge il santuario è completamente franata. L'unica via che porta al luogo sacro non esiste più. Se tutto va bene ma non vorrei andare troppo avanti, considerati i tempi, a maggio già sarà nuovamente fruibile la viabilità. Questo come prima tranche di finanziamento. Ne abbiamo un altro per cui adesso stiamo vedendo la convenzione con la Regione Calabria che è di 3 milioni di euro per quanto riguarda il risanamento di tutto il costone del santuario della Madonna del Castello. Quando verrà restituita la viabilità e quindi la Chiesa, sono convinto che resteranno stupiti i devoti che a Sovillaresi non sono. Valentina Iannuzzi per la C News 24